ENAIO! Scrivi SCP? E non va... Sei un... ENAIO! No, ma perchè hai indicato la lista dei tuoi desideri di merda che non frega a nessuno! Eccolo lì, secret laboratorio. No, no... NON SECRET FILE! OPS! OOOOOO! Quella l'ho tu! Nooo, sta calmo! E ora estellalo! Perchè? E... Non va... Ti ho chiesto di fare domande! Ho detto fallo stai ziii! Stai zitto e muoviti!